Aspetta, aspetta, inizio! Eh? Vai! Ok, allora... Sì, sì, lo faccio! Vai! La 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 la... Vivere la vita è una cosa veramente grossa. C'è tutto il mondo tra la culla e la fossa. Sei partito da un piccolo porto, dove la sete era tanta e il fiasco era corto. E adesso vivi, perché non avrai niente di meglio da fare, finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatina. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un secco di gente. Ma quando passerà, non ti ricorderai più niente. Ma non avere paura, qualcun altro si ricorderà di te. Ma la questione è... Perché? Perché hai qualcosa che gli hai regalato, oppure avevi un debito e non l'hai pagato. Non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha morto. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha morto. In un grosso girotondo c'è il momento di stare su e quello di cadere giù nel fondo. E allora avrai paura perché a quella notte non eri pronto. Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Eccoti sulla tua barchetta del giornale che sfidi le onde della radio-tenezione. Eccoti lungo la statale che dai un bel pugno a un sfruttatore. Eccoti nel tuo monolocale che scrivi una canzone. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. E ora eccoti sul letto che non vuoi più alzarti. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa. Sorridi. Respira forte. Sei vivo. Crettino. Crettino. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.